sono il dottore sabbia morizio responsabile della sede di napoli della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e do a tutti voi il saluto di ringraziamento di essere così numerosi presenti dovrei dire connessi oggi a questo simposio napoli avrei voluto dirvi benvenuti a napoli ve lo dico lo stesso anche se ognuno è dislocato dove nelle proprie sedi perché questo simposio come ogni anno in sollecitazione del direttore la sede di napoli organizza un simposio di rilevanza nazionale adeguandosi alle sue tre missioni quella formativa quella di ricerca e quella di rilevanza clinica in collaborazione con gli enti universitari e altri enti di ricerca e come ogni anno a me il compito ed il piacere di fare gli onori di casa perché questo titolo perché l'accettazione il cambiamento la psicoterapia ormai è da tempo che il tema della accettazione ha assunto un ruolo cruciale nella riflessione teorica e nella prassi clinica della psicoterapia cognitiva infatti la concettualizzazione cognitiva dei problemi emotivi pone sempre in evidenza che un disagio emotivo segnala scopi una concettualizzazione cognitiva con una rappresentazione cognitiva in conflitto con i desideri e gli scopi rilevanti dell'individuo che a lui possono sembrare compromessi o minacciati ad esempio lo stato emotivo di tristezza indica sempre che vi è qualcosa che minaccia una perdita o non al raggiungimento di una una compromissione quindi una minaccia di uno scopo così come quello lo stato emotivo di rabbia rappresenta una compromissione o una minaccia quindi un danno dei propri scopi di solito c'è una naturale risoluzione del disagio emotivo attraverso varie vie vorrei dare un piccolo contributo nella in quanto ho affermato non so voi ma io da piccolo vivevo nel confortevole e consolatorio mondo del e vissero tutti felici e contenti non so voi ma sin da piccolo iniziai a comprendere che forse non era così tanto vero verso gli anni 50 60 si leggevano molto i fumetti e le case editrici di fumetti nascevano a funghi e tanto rapidamente si chiudevano provate a immaginare cosa provai quando a mia insaputa la casa editrice del mio fumetto preferito chiuse i battenti e quindi il fumetto non più più reperibile nell'edicole come il re senza corona e senza scorta della canzone di marilena andai girando ancora per cento edicole cercando il mio fumetto il fumetto di cui ero innamorato ma a differenza di quel re io ben presto limitai le mie ricerche perché nuovi interessi le feste le uscite con gli amiglietti le partite a calcetto i nuovi compagni di scuola mi dirottarono l'attenzione come andò a finire un giorno mio padre mi portò due fumetti di argomento similare al mio fumetto preferito come la vecchia pubblicità dei detersivi due al posto di uno a differenza della pubblicità io accettai subito e rinunciai al vecchio fumetto col tempo decisi di formarmi medico di affrontare il la branca medica del disagio mentale e in fine divenne anche psicoterapeuta scelsi cioè di impattare il la sofferenza patologica del disagio mentale ma qual è il discrimine fra un disagio emotivo e un disagio emotivo patologico se volessi fare una battuta potrei dire che non è certo un disagio da fumetto ma sarebbe veramente poco riverente presso la verso la sofferenza che ho impattato in tutti questi anni sempre in linea con la concettualizzazione cognitiva dei problemi emotivi posso affermare che tale sofferenza deriva dalla persistente marcata mancata accettazione dell'individuo a rinunziare ai propri o ridefinire ai propri scopi compromessi che anzi li accentua nel vesti ancora di più come se io stessi come re senza corona e senza scorta bussando ancora cent'anni a tutte le edicole ora cosa caratterizza lo stato mentale di chi accetta quali processi mentali portano all'accettazione e quali invece tendono invece ad ostacolarli rinforzando invece il non cambiamento nel primo intervento accettazione stoica e l'accettazione buddista il dottor elio carlo chiarirà il significato cognitivista dell'accettazione ed illustrerà quella forma particolarmente radicale di accettazione la morfati proposta dallo stoicismo e dal buddismo ed in particolare le vie proposte per modificare gli scopi e gli investimenti per far cessare la sofferenza psicologica verranno illustrati infine alcuni esercizi spirituali proposti da questi due sistemi di pensiero seguirà l'intervento farsene una ragione del professor cristiano calzer franchi in cui si metterà in evidenza che l'individuo per poter accettare deve avere in primis la possibilità di crederci questo aprirà il discorso fortemente centrale dato dalle aspettative del sistema di credenza dell'individuo infine si accenerà al senso di ingiustizia delle credenze da accettare in relazione a quelle dell'ordine naturale dopo la pausa che vi chiedo sia contenuta per dare spazio ai successivi interventi proseguiremo con l'intervento dei lettori maurizio brasini del professor mauro giacantonio dal titolo ma perché proprio a me in cui si descriverà l'ordine naturale come un sistema di credenze self serving fondato su inviti evoluzionistici e declinato in modo idiosincrasico su di essi su due assi principali quello della misericordia della cura e quello dell'onore e del rispetto tale ordine naturale aiuta a comprendere e prevedere le cose del mondo ma indica anche un modo prescrittivo come agire si discuterà inoltre come eventi negativi incoerenti con le credenze relative all'ordine naturale possono essere difficili da accettare infine si mostrerà come si cerchi di preservare le credenze dell'ordine naturale i loro vantaggi e di loro costi dolce secondo il quarto intervento del professore francesco mancini inaccettabilità e sofferenza psicopatologica descriverà i criteri di sofferenza emotiva e ne illustrerà i fattori di mantenimento attraverso un caso clinico in tal modo si metteranno in evidenza utilizzando la discussione del caso clinico l'importanza degli interventi tramite l'accettazione per il cambiamento si accenerà altresì alle condizioni in cui tali interventi sarebbe preferibile differirli bene mi sembra un programma abbastanza ricco oltre che interessante alcune note di servizio prima di iniziare avete visto per voi partecipanti il pulsantino dr durante gli interventi vi invitiamo a scrivere porre le domande che saranno poi poste durante la discussione finale per dare spazio a tutti gli interventi che dovrebbero sicuramente sforeranno un po' proviamo nella pausa ad essere rispettosi di un tempo non eccessivo vi ringrazio e allora io direi che se siete d'accordo possiamo passare al primo intervento del dottor elio carlo il dottor elio carlo è ingegnere psicologo teologo e collabora stabilmente con l'associazione di psicologia cognitiva su alcuni temi di ricerca come il rapporto tra credenze sull'ordine naturale e sofferenza psicologica e gli impatti degli ambienti naturali sul benessere psico con l'università roma 3 è impegnato in alcune ricerche riguardanti gli aspetti narrativi e discordanti del linguaggio con particolare riferimento e questo è a me molto carico ad alcune popolazioni cliniche gli schizofrenici dottore carlo può iniziare se vuole buongiorno buongiorno a tutti grazie maurizio della bella presentazione grazie ai colleghi ma grazie soprattutto ai partecipanti che vero numerosi evidentemente il tema dell'accettazione grandemente interessante coglie diciamo una come dire una ricerca e di approfondimento che va evidentemente nel segno io cerco di condividere adesso le slide quindi datemi qualche secondo per appunto condividerle introducendo la mia la mia il mio intervento vi dico già perché ci occupiamo essenzialmente di stoicismo perché in questa presentazione mi occupo di stoicismo e di buddismo e non di altre filosofie in realtà si può ci si potrebbe occupare anche di tanti altri sistemi filosofici che hanno seguendo la stessa impostazione ma innanzitutto possiamo dire per due motivi perché lo stoicismo è alla base della come sapete tutti insomma come sanno soprattutto i cognitivisti è alla base della della psicoterapia cognitivo comportamentale della psicoterapia cognitivista che ha profonde radici all'interno dello stoicismo oltre che nella filosofia di epicuro e in altre filosofie diciamo del periodo greco il buddismo perché la terza onda della della psicoterapia cognitivo comportamentale rintraccia le proprie radici nella filosofia buddista o nella psicologia buddista ma c'è e su questo poi dirò alcune cose perché questa questa ricerca di radici nella filosofia buddista secondo me è abbastanza problematica ma c'è poi un altro motivo molto molto intrigante per cui sia lo stoicismo sia il buddismo dovrebbero appartenere come dire alla cultura comune della della psicologia in particolare della psicologia della psicoterapia cognitivo comportamentale perché sia il buddismo che lo stoicismo designano una strada non tanto per l'accettazione della singola compromissione di un determinato scopo ma in via come dire asintotica in via come dire programmatica ricercano una cessazione completa della sofferenza umana e questo è assolutamente straordinariamente interessante per quanto riguarda le potenzialità psicoterapeutiche e anche diciamo per quanto riguarda la vita comune di tutti cioè ricercare una via per la cessazione definitiva e in qualche maniera assoluta della sofferenza è certamente un compito quasi sovrumano ma questi filosofi ci hanno indicato una via per per procedere in questo senso quindi il motivo della diciamo dell'interesse per queste due filosofie per questi due sistemi di pensiero secondo me sono abbastanza importanti e molto significativi allora io cerco di adesso condividere lo schermo allora per diciamo fare un intervento ragionevole ho bisogno di condividere con voi di che cosa vi parlerò vi parlerò in generale dell'accettazione quindi parlerò di alcuni concetti fondamentali che a base dell'accettazione come il concetto di scopo di aspettativa e di investimento vi parlerò di una forma radicale di accettazione è quella che vi dicevo prima quella proposta dalla dalla psicologia buddista e dalla filosofia stoica vi parlerò appunto dello stoicismo da un punto di vista cognitivista e vi parlerò anche della del buddismo dal punto di vista cognitivista mettendo in evidenza che il buddismo è molto di più di quello che si intende oggi con la mindfulness e poi vi parlerò anche di alcuni esercizi diamorfati che sono degli esercizi spirituali che in qualche maniera possono essere calati anche nella pratica psicoterapeutica per questo intervento anche se sto che questi argomenti saranno poi ben discussi e ben illustrati in particolare dal professor castelfranchi ma anche da tutti gli altri professori che interverranno ho bisogno di condividere con voi un glossario come dire un dizionario delle cose che ci interessano allora la prima definizione che ci interessa è la definizione di scopo noi sappiamo che l'uomo funziona il funzionamento mentale umano è basato su credenze scopi lo scopo sono che cos'è uno scopo è un fattore motivazionale che indirizza finalisticamente quindi teologicamente un comportamento quindi si tratta sostanzialmente di un insieme di parametri che configurano uno stato di realtà target uno stato di realtà desiderato gli scopi sono associati ad alcuni tipi di credenze che sono molto importanti per quello che dovremmo vedere oggi il diciamo particolarmente importanti sono il valore dello scopo cioè noi funzioniamo per scopi abbiamo diciamo ci comportiamo in vista della realizzazione di uno scopo ma lo scopo è caratterizzato essenzialmente da che cosa la credenza relativamente al valore dello scopo stesso e poi dalle credenze che riguardano la probabilità che noi assegniamo alla realizzazione di questo scopo quindi in realtà gli scopi sono caratterizzati essenzialmente da due tipi di credenze il valore dello scopo e la probabilità che noi assegniamo alla realizzazione dello scopo e quindi alla previsione dello scopo stesso e qui entra in gioco il valore che sarà molto ben diciamo la credenza che sarà insieme di credenze credo sarà molto ben discursa dal professor casser franchi che è appunto il concetto di aspettativa il concetto di aspettativa è come dire un insieme gestaltico costituito dall'insieme credente delle credenze relative al valore dello scopo e le probabilità di accadimento di quello scopo adesso ci renderemo conto a brevissimo perché tutti questi concetti sono importanti ai fini della definizione dell'accettazione della sofferenza psicologica una piccola notazione l'aspettativa è diversa dall'ipotesi perché l'ipotesi riguarda la stima della possibilità che un evento accada ed è anche diversa dalla semplice da quello che chiamiamo la previsione perché sono differenti perché non c'è aspettativa se non c'è interesse relativamente all'evento quindi se lo scopo non ha valore quindi noi dobbiamo essere molto rigorosi nelle definizioni un conto e parlare di previsioni un conto e parlare di aspettative introduciamo anche il concetto di motivazione di investimento l'investimento è l'insieme della possiamo definirlo come l'insieme delle risorse comportamentali cognitive ed emotive che sono dedicate al perseguimento di uno scopo ovviamente ad ogni investimento è associato uno scopo i fattori che fanno sì che uno scopo promuove il relativo investimento cioè tutti gli scopi promuovono investimenti essenzialmente no lo scopo deve avere alcune caratteristiche promuovere per promuovere il relativo investimento quali sono queste caratteristiche innanzitutto deve avere un valore oggettivo assoluto diciamo una delle cose più importanti che sia di un valore tale da comportare l'investimento da parte della persona che ha quello scopo e poi ci deve essere anche la credenza che il soggetto possa contribuire al raggiungimento dello scopo cioè in qualche maniera il soggetto deve essere convinto di poter contribuire con la propria azione al raggiungimento dello scopo faccio un esempio anche per essere più pratico e per rendere la cosa più comprensibile io posso avere lo scopo che domani sia una bella giornata ma non posso investire su questo scopo chiaramente non posso contribuire in alcuna maniera sul fatto che domani ci sarà il sole se invece si parla di una professione di carriera che dipende per esempio nel mio lavoro da quanto impegno ci metto e dalla bontà delle pratiche che esaurisco bene durante il mio lavoro allora quello scopo di aumentare il livello della mia della mia posizione gerarchica all'interno dell'azienda può promuovere un investimento perché ha un valore soggettivo assoluto e ha probabilmente anche un valore relativo abbastanza importante come fra un po vi farò vedere ma possiedo anche le credenze relative al fatto che posso contribuire al raggiungimento dello scopo quindi non tutti gli scopi promuovono investimenti affinché uno scopo possa essere investito lo scopo deve essere sufficientemente valoriale ma devo anche a possedere delle credenze relative alla possibilità di raggiungere lo scopo in questione chiaramente la distribuzione degli investimenti che una persona fa dipende dalla scala dei valori reciproci relativi di uno scopo rispetto all'altro evidentemente è difficile che una persona abbia un solo scopo probabilmente ne avrà diciamo una molteplicità e questo sistema di scopi ha come dire una un insieme presente un insieme di credenze relative al valore relativo di questi scopi quindi c'è dal del maggior o minore valore di uno scopo rispetto a un altro molto brevemente la compromissione di uno scopo e la rappresentazione soggettiva dello stato dei fatti che attesta uno scostamento negativo rispetto alla rappresentazione dello stato di realtà che costituisce lo scopo stesso se domani se mi accorgo domani che il tempo non è bello come pensavo il mio scopo è stato compromesso la minaccia è tutto quello che fa sì che si reputi possibile che un evento futuro quindi ancora non accaduto possa compromettere lo scopo il scopo adesso andiamo alla definizione fondamentale quello di sofferenza perché poi il concetto di sofferenza appunto ci permetterà l'aggancio con il concetto di accettazione la sofferenza è la condizione emotiva che si verifica o cognitivo emotiva che si verifica quando uno scopo è compromesso o minacciato come dice il professor castelfranchi è una condizione gestaltica cioè la qualità della sofferenza dipende dalle credenze che il soggetto ha sullo scopo e in particolare dell'aspettativa e adesso veniamo a un concetto fondamentale quello di accettazione che cosa vuol dire accettazione ve lo siete vi siete mai chiesti cosa cosa significa dal punto di vista del senso comune l'accettazione come questo magari può essere tradotto in termini psico psicologici e psicoterapeutici rigorosi dal punto di vista della diciamo del senso comune l'accettazione è in pratica l'adeguamento dei comportamenti dell'individuo rispetto alla realtà cioè rispetto allo stato delle cose allora anche qui un esempio per essere molto molto banali forse ma anche molto chiaro immaginiamo che un marito venga lasciato dalla moglie la moglie gli dica che non non vuole più averne a che fare con lei e il marito nei giorni nei mesi successivi continua a offrirle dei mazzi di rose dei messaggi sul cellulare o comunque continua a cercare di vederla e così via direste che questo marito ha accettato la crisi del proprio matrimonio sicuramente no dal punto di vista del senso comune questo non è vero perché il marito in questo caso sta mettendo in atto dei comportamenti che fa segnalano il fatto che lui non ha accettato la situazione che gli si è venuta a creare cioè la realtà lo stato delle cose che la perdita della moglie gli ha gli ha presentato davanti questa maniera di intendere l'accettazione dal punto di vista del senso comune ha una traduzione immediata e qui veniamo più al sodo dal punto di vista cognitivista e quindi può essere tradotto diciamo l'accettazione del senso comune il senso cognitivista parlando di investimenti di scopi ecco perché vi ho introdotto i concetti che dicevamo di scopo di investimento di aspettative e così via l'accettazione cognitivista è l'accessazione dell'investimento cioè l'adeguamento dei comportamenti del senso comune sullo scopo compromesso cioè la credenza di poter recuperare il lo scopo compromesso è falsa cioè l'individuo si rende conto che non può più recuperare lo scopo compromesso oppure il valore dello scopo è cambiato non me ne frega più niente della compagna della moglie che mi ha lasciato oppure ancora esistono ed ecco perché vi ho introdotto il concetto di valore relativo esistono degli scopi che sono ancora raggiungibili che sono dotati di valore tale da orientare il soggetto a investire su di essi quindi questa è una prima definizione cognitivista in qualche maniera rigorosa dell'accettazione se volete anche una traduzione abbastanza rigorosa del concetto di accettazione che abbiamo invece comunemente nella psicologia del senso comune diciamo che quindi possiamo avere varie gradazioni del fatto che un soggetto accetti la realtà possiamo avere una sofferenza assente o comunque di basso livello che consente un buon funzionamento psicologico questo tipo di sofferenza assente o modi che è caratterizzata da un'assenza di investimento sullo scopo compromesso quindi sulla rinuncia ed è questo che noi chiamiamo propriamente accettazione invece possiamo avere una sofferenza abnorme c'è uno scopo ancora attivo ma un'assenza di investimento sullo scopo di compromesso ed è quello che chiamiamo invece rassegnazione e poi possiamo avere come diceva maurizio nel breve intervento che ha preceduto il mio possiamo avere una sofferenza psicopatologica cioè una sofferenza abnorme in cui si è ancora in presenza di investimento sullo scopo compromesso quindi vedete che esistono diverse modalità di forse rispetto a uno scopo compromesso si può smettere di investire sullo scopo e rendere lo scopo in qualche maniera meno funzionale meno attivo meno valoriale quindi abbiamo l'accettazione possiamo avere una condizione in cui lo scopo è ancora potentemente attivo ma non investo più sullo scopo compromesso e quindi avere la rassegnazione e poi possiamo avere la sofferenza psicopatologica che è quella in cui ho una condizione di sofferenza particolarmente marcata o e ho ancora una presenza di investimento sullo scopo compromesso quindi qualche maniera attraverso pochi concetti siamo in grado di definire in maniera abbastanza rigorosa quello che intendiamo per accettazione e per comparazione quello che intendiamo per rassegnazione adesso vi vorrei parlare di una forma molto radicale di accettazione che è quella che appunto vi accennavo essere presente in questi due sistemi di pensiero ma praticamente in tutta la filosofia antica cioè quello di amorfati l'amorfati è una forma di accettazione chiaramente in cui però rispetto alla definizione cognitivista dell'accettazione cioè la assenza di investimento relativamente allo scopo compromesso abbiamo una situazione è una condizione ancora più radicale perché l'amorfati rappresenta quella forma di accettazione in cui ho definitivamente e permanentemente l'assenza di sofferenza psicologica perché ho il completo adeguamento della mia volontà individuale rispetto a tutti i possibili eventi cosa significa anche qui vi voglio fare un esempio un esempio secondo me abbastanza calzante che rende diciamo in maniera molto plastica quello che quello che vuol dire amorfati e quello che significa questa forma di accettazione allora noi sappiamo che il funzionamento umano l'abbiamo detto pochi pochi secondi fa è regolato da scopi e credenze allora siccome gli scopi sono anticipazioni in qualche maniera rappresentazioni di uno stato di realtà futuro e siccome gli scopi possono essere compromessi cioè possono essere contraddetti dalla realtà noi sostanzialmente abbiamo due maniere per non soffrire o cerchiamo di adeguare la realtà ai nostri scopi ma non è facile e nella stragrande maggioranza dei casi non ci uscire non ci riusciremo appieno oppure abbiamo una seconda via ed è quella la via di cui vi voglio parlare che sta alla base della morfati cioè abbiamo la possibilità non di adeguare la realtà agli scopi assurda pretesa dell'uomo ma pretesa che ci coinvolge tutti ma di adeguare i nostri scopi alla realtà allora i sistemi di pensiero antichi in particolare lo stoicismo e il buddismo si sono resi conto che per non soffrire quindi per non avere scopi sostanzialmente compromessi dalla realtà quello che bisognerà fare è essenzialmente questo conoscere la realtà individuare i nostri scopi come scopi che sono inscalfibili che non possono essere diciamo compromessi dalla realtà dei fatti e quindi perfettamente armonizzati con la realtà con le nostre credenze sul funzionamento della realtà e quindi attraverso la definizione di questi scopi adeguati alla realtà che presuppone che conosca molto bene che abbia delle credenze molto specifiche sul funzionamento del reale smetto di soffrire perché questi scopi opportunamente scelti non sono in alcuna maniera diciamo compromettibili proprio perché sono adeguati al funzionamento del reale è esattamente questo è esattamente in questo che consiste la morfati questa forma molto radicale di accettazione per capire come funziona la morfati ho bisogno di accennarvi a fatto che sostanzialmente esistono due tipi di valore degli scopi questi i valori degli scopi sono sostanzialmente riconducibili a due a due aspetti c'è un tipo di valore che utilitaristico cioè dipende dalla funzione che l'individuo formula relativamente all'utilità dello scopo stesso ma poi c'è e possiamo individuare con questo termine ordine naturale utilitaristico l'insieme degli stati di realtà che sono dotati di valore utilitaristico positivo o nulli e poi c'è un ordine naturale etico cioè l'insieme degli stati del mondo reali o prefigurabili che sono dotati di valore normativo allora con questo cosa voglio dire gli scopi hanno sostanzialmente un valore ma lo scopo il valore dello scopo è sostanzialmente distinguibile in due grandi tipologie uno scopo che rende conto dell'utilità dello scopo rispetto alla mia vita è uno scopo che invece rende conto del valore normativo che ha lo scopo relativamente alle mie alla mia vita le mie credenze anche qui un esempio banale voi pensate che quando nel nel 1944 i kamikaze si buttavano giapponesi si buttavano sugli incrociatori americani avessero come valore utilitaristico come scopo utilitaristico proprio quello di perdere la vita distruggendo la nave nemica probabilmente no lo facevano per una motivazione etica quindi in qualche maniera non è detto che il valore utilitaristico il valore normativo di uno scopo coincidono in qualche caso possono essere anche confliggenti una volta stabilito che gli scopi possono avere sia un valore etico che un valore normativo diciamo da cosa dipende la sofferenza quando uno scopo viene in qualche maniera compromesso adesso cerco di andare piuttosto veloce un primo diciamo la prima cosa che causa sofferenza il primo motivo di sofferenza è il valore dello scopo cioè più il valore a più lo scopo ha valore più sostanzialmente la frustrazione incrementa la sofferenza la seconda il fattore il secondo fattore che causa sofferenza è la credibilità dello scopo cioè la sofferenza non dipende solo dal valore dello scopo compromesso ma sostanzialmente dipende a una componente per esempio può avere una componente legata per esempio alla sorpresa quindi alla delusione rispetto a uno scopo che viene compromesso c'è ci può essere anche una violazione dell'aspettativa quindi una invalidazione di credenze noi sappiamo quell'invalidazione di credenze anche questo è un argomento piuttosto importante l'invalidazione di credenze può assumere due caratteri ci può essere un malessere psichico derivante dalla resistenza a modificare l'assetto delle assunzioni il cosiddetto disagio sistemico ma ci può essere sostanzialmente un'invalidazione anche delle credenze centrali dell'individuo relativamente al funzionamento del mondo e la sua giustezza etica ci sono tante pubblicazioni però espresse qualcuna e quindi sostanzialmente si tratta dell'invalidazione di credenze che sono centrali per costruire quello che abbiamo chiamato diciamo l'ordine naturale cioè il mondo come potrebbe essere come io ritengo che possa essere fattualmente e come sarebbe giusto che fosse quindi io attraverso queste credenze centrali formulo degli scenari sul mondo su come sarebbe giusto che fosse questo lo chiamo ordine naturale etico e come sarebbe come potrebbe essere materialmente realmente naturalmente essere questo lo chiamo ordine naturale fattuale quindi questo lo posso lo posso saltare quindi sostanzialmente quando uno scopo viene invalidato il motivo di sofferenza non è legato semplicemente al valore dello scopo ma può essere legato al fatto che vengono invalidate delle credenze particolarmente forti nell'individuo credenze che possono originare il cosiddetto disagio sistemico ma possono originare anche sostanzialmente la rottura di uno scopo che è molto importante che invece è cognitivamente rappresentato che quello di avere una pradonanza cognitiva della struttura casua causale dell'ambiente e in questo caso sia il cosiddetto trauma psicologico cioè per avere un trauma psicologico non devo avere solamente uno scopo compromesso ma in qualche maniera devo devono essere invalidate dentro di me delle credenze centrali sul funzionamento del mondo e sulla giustezza del mondo allora che cos'è in quindi in particolare l'accettazione e la morfati quindi dal punto di vista cognitivisa la morfati diciamo l'accettazione è la cessazione dell'investimento sullo scopo rimediabilmente compromesso vi faccio notare una cosa la cessazione dell'investimento quindi la condizione di accettazione cognitivista non è una condizione estrettamente sufficiente per la cessazione della sofferenza psicologica infatti l'individuo può smettere di investire su uno scopo compromesso perché per esempio si rende conto le possibilità di recupero sono sono nulle oppure però può continuare a soffrire per val per effetto del valore ancora attribuito a questo scopo la morfati invece una condizione radicale di radicale accettazione che deriva dalla modificazione delle credenze relativamente al valore alla credibilità degli scopi che conduce alla cessazione completa e definitiva della sofferenza e quindi non solo degli investimenti in questo consiste la differenza tra questa forma radicale di accettazione che è appunto la morfati e l'accettazione cognitivamente intesa come funziona la morfati ve l'ho detto prima quando ho introdotto i concetti di ordine naturale fattuale utilitaristico ed etico la morfati funziona attraverso la comprensione di come il mondo funziona cioè attraverso l'assunzione di particolari credenze sul funzionamento causale del mondo se io assumo appunto queste credenze particolari sul funzionamento causale del mondo rivoluzioni i miei scopi e le mie aspettative ed ho una condizione di assenza di sofferenza generale permanente perché non soffro qualsiasi cosa accade perché tutto ciò che succede è compatibile con lo schema di funzionamento della mia realtà della della realtà e quindi con l'ordine fattuale quindi sostanzialmente non ho nessuna compromissione di quelle credenze di credibilità di cui vi ho appena parlato e non può compromettere o minacciare nessuno scopo dotato di valore utilitaristico e normativo cioè per dirla in una parola la morfati è quella condizione di accettazione in cui il mio sistema di credenze sull'ordine naturale è così importante da non poter essere invalidato da qualsiasi evento succeda ed è ed è caratterizzato dal fatto che informa a sé il mio ordine utilitaristico e il mio ordine etico cioè ve lo dico in parole più semplici la morfati è quella condizione in cui si che si realizza allor quando io ho una condizione di comprensione della realtà che informa a sé cioè sublima a sé i miei valori utilitaristici i miei scopi utilitaristici e i miei scopi morali in maniera tale che ci sia perfetta coincidenza tra lo stato di realtà possibile quello che il mio ordine naturale fattuale mi fa immaginare lo stato di diciamo l'ordine fattuale diciamo etico cioè tutto quello che accade è giusto e tutto quello che accade è al contempo utile per me quindi in parole povere l'accettazione nel senso della morfati è la condizione di coincidenza fa l'ordine fattuale l'ordine etico e l'ordine utilitaristico allora diciamo questa possibilità di una coincidenza fra questi tre ordini è stata molto ben compresa dallo stoicismo in particolare da marca da marca aurelio quale ragionamento che consente a marca aurelio c'è per far per farvela breve il problema è quindi di conoscere bene la realtà e di comprendere di scegliere degli scopi che siano adeguati alla realtà sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista utilitaristico cioè io conosco la realtà e individuo tramite la confezione esatta della realtà quali possono essere gli scopi adeguati dal punto di vista etico sia dal punto di vista utilitaristico adeguati a questa realtà in maniera tale che questi scopi non possano essere controllo marco revio fa tutto un ragionamento diciamo abbastanza semplice ma se volete abbastanza evoluto rispetto alla possibilità di accedere a questa condizione di coincidenza fa ordine naturale ordine morale e ordine utilitaristico e si basa su che cosa sull'osservazione della natura allora marco revio osserva la natura e capisce che invita tutti a considerare che la natura è sostanzialmente un tutto in evoluzione è sostanzialmente ha un'origine una trasformazione la natura non tende che a trasformare le cose esistenti a creare altre della merissima specie ogni cosa in un certo qual modo il germe di quella che nascerà da essa cioè marco revio dice all'interno della natura c'è una forza che indirizza l'evoluzione cosmica adesso un sommo bene che è l'utilità della natura stessa tutto quanto avviene avviene giustamente quindi non solo secondo una successione di causa e effetto ma secondo una legge giusta adesso cerco di tradurla in termini in termini più forse più banali marco revio come molti altri filosofi parte dall'osservazione della natura e riconosce la natura un logos cioè una legge universale che determina e regola l'evolversi secondo un rapporto di causa effetto dei fenomeni all'interno della natura stessa osservando questo ne deduce che la natura tende a complessizzarsi evolversi e quindi ne deduce che il logos cioè la ragione presente nella natura sia indirizzato a migliorare la natura stessa quindi la legge che regola i rapporti naturali esistenti appunto nella nel cosmo nella anche nella nei sistemi umani nei sistemi naturali umani sono quindi indirizzati ad un bene a un sommo bene che è il bene della natura stessa e sono anche utili proprio perché convergono verso l'utilità della natura stessa che tende appunto ad auto riprodursi e ad auto evolvere verso situazioni di complessità sempre più grandi se vi può sembrare in qualche maniera antico questo ragionamento sappiate che il novecento è pieno di filosofie che vanno nella stessa direzione sia di filosofi diciamo abbastanza conosciuti ma anche di filosofi che sono stati anche dei grandi dei grandi teologi per esempio teglia de chardin oppure altri 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 pensatori molto molto importante quindi marco arrivo cosa dice che l'ordine naturale esiste che è una legge naturale per parte tutto che nulla accade per caso e in maniera difforme da quanto la legge ha previsto dall'eternità soprattutto quest'ordine naturale indirizzato al bene e tale bene consiste nella conservazione e dell'universo nella nella conservazione e nello sviluppo dell'universo da questa parte l'uomo ha possiede questa ragione naturale perché chiaramente non vi possono essere due ragioni due leggi due ordini naturali distinti e quindi da questo deriva che tutte le cose sono concatenate reciprocamente uno è il mondo che risulta da esse uno è il dio che la pervade marco redi utilizza la parola dio per vedere per indicare la legge appunto la logos e così via una la sostanza una la legge una la ragione comune a tutti gli esseri pensati com'è che questo bene universale diventa diciamo il bene dell'uomo adesso vado abbastanza veloce perché il ragionamento è in sostanza molto semplice se nella natura esiste diciamo un una legge che indirizza al bene e che l'uomo è in grado di riconoscere che quindi indirizza al bene e all'utile del cosmo l'uomo è in grado di riconoscere questa legge pervade anche i rapporti umani cioè l'uomo vive in un microcosmo che è assoggettato alla medesima legge e questa medesima legge regola i rapporti umani quindi sostanzialmente l'uomo può riconoscere la presenza di questa legge universale di questo ordine fattuale cosmico che anche un ordine etico e che anche un ordine utilitaristico all'interno del proprio contesto sociale e che cos'è questa questa legge che regola il contesto sociale è semplicemente la legge morale quindi diciamo dalla dalla constatazione che esiste una legge cosmica marco aurelio deduce che la stessa legge vale nei rapporti umani e che questa legge nel nel microcosmo che è costituito dalla società umana coincide con la legge morale e quindi sostanzialmente marco aurelio può attraverso un parallelismo che è arrivato ma non più di tanto individuare nel bene morale quindi nel diciamo nell'equivalenza del bene del supremo cosmico il bene morale che è il bene all'interno della società umana l'unico valore per il quale bisogna combattere o per il quale bisogna sostanzialmente attribuirsi uno scopo nella vita e quindi sostanzialmente marco aurelio attraverso questa operazione si rende conto che in coerenza ecco quello che vi dicevo prima coincidenza fra ordine fattuale ordine utilitaristico e ordine morale si rende conto che la comprensione della realtà quindi la definizione di un logos universale conduce l'uomo a riconoscere lo stesso logos all'interno della società umana e conduce l'uomo a riconoscere come unico valore diciamo che sia effettivamente tale la diciamo l'ottenimento del valore morale il perseguimento del valore morale che anche in ostenteranza a quanto succedeva nell'universo anche un valore che non solo ha diciamo una componente morale ma anche una componente utile una componente tonica e quindi sostanzialmente in questo si realizza a livello umano la coincidenza tra ordine naturale fattuale ordine naturale utilitaristico e ordine naturale etico che consente a marco aurelio appunto la come dire l'espressione di quello che abbiamo definito amorfato quindi in sostanza l'ordine naturale fattuale consente a marco aurelio di dire che nella vita esiste un solo valore essenziale lo esprime molto bene ad hoc che è un filosofo francese molto esperto di filosofia antica recentemente scomparsa di fronte a questo valore unico e trascendente le cose umane sono ben piccole quindi rispetto al valore morale e non sono che un punto nell'identità dell'universo l'unica cosa grande la purezza dell'intenzione morale il bene morale come in pascal è infinitamente superiore alla grandezza finita vi faccio notare che il bene morale c'è l'unico valore che secondo marco aurelio è adeguato alla struttura della realtà anche un'altra cosa molto importante siccome diciamo per realizzarlo basta solo appunto l'espressione della volontà non c'è nulla nell'universo che possa impedirmi di comportarmi eticamente quindi il scegliere un valore in questo caso il bene morale in maniera coerente con l'amor con diciamo con la legge naturale consente di individuare uno scopo che non è comprimibile che non che non può subire diciamo subire né minaccia le compromissioni perché non c'è nulla dall'esterno che possa impedirmi di comportarmi eticamente quindi per farvela breve e per rendere la cosa più comprensibile marco aurelio guarda la realtà individua nella realtà una legge che conduce al bene e all'utile guarda la realtà umana e individua nella stessa legge la possibilità di introdurre uno scopo ecco diciamo la diciamo l'introduzione della materia cognitivista che in coerenza in relazione con questa legge naturale rappresenta uno scopo non vulnerabile non che non può essere compromesso ed è quindi l'unico scopo che sostanzialmente vale la pena perseguire perché tutti gli altri come vedremo sono invece abbondantemente soggetti a vulnerabilità e a compromissione vi voglio parlare di alcuni esercizi che sono stati un po dimenticati dalla tradizione cognitivista e che marco aurelio e lo stoicismo hanno individuato per far sì che questa comprensione della realtà conduca all'accettazione alla morfati anche l'uomo comune uno di questi esercizi per esempio diciamo quello che vi voglio far notare che marco aurelio gli stoici avevano ben compreso che il funzionamento umano dipende dagli scopi dalle aspettative li chiamavano certamente in altra maniera ma questi ragionamenti erano molto ben presenti allo stoicismo e ai filosofi antichi e quindi questa identificazione della dei meccanismi funzionali della della del funzionamento appunto della mente umana erano molto ben molto ben presenti alla ai loro sistemi di pensiero e quello che vi voglio far notare che avevano ideato già allora degli esercizi di stampo cognitivista che anticipano di migliaia di anni sicuramente di centinaia di anni alcune teorie psicologiche invece diciamo sono state sviluppate nel novecento vi faccio alcuni esempi uno degli esercizi per esempio che marco aurelio presenta per per far capire a chi appunto esegue questo esercizio che l'unico valore effettivamente importante è il bene morale tutti gli altri valori che riteniamo importante della vita in realtà sono valori assolutamente indifferenti è un esercizi un esercizio di mental imagery cioè quello sostanzialmente della visione dall'alto si tratta di un esercizio badate bene che marco aurelio non ha inventato perché probabilmente stava anche diciamo nei sistemi filosofici precedenti ma un esercizio che arriva fino ai giorni nostri se qualcuno di voi un appassionato di letteratura e legge gete per esempio l'esercizio della visione cosmica è un esercizio che sta diciamo che gete descrive molto bene e che descrive appunto come elemento fondamentale di una rivoluzione spirituale in che cosa consiste questo esercizio e vi dico lo potete anche fare voi nella vostra per esempio a me aiuta tantissimo è un esercizio del tipo è di una grande facilità che ridimensiona fortemente per esempio le condizioni di ansia di preoccupazione ma anche alcune condizioni di consapevolezza o di cognizione di alcune compromissioni di scopi si tratta di vedere la propria vita dall'alto cioè sostanzialmente di mettersi dalla parte della ragione universale noi spesso siamo preoccupati da cose che ci sembrano estremamente importanti ma se alziamo il livello dello sguardo ci vediamo per esempio dall'alto immaginando la di scutare non solo le nostre le nostre vite ma le vite di chi ci circonda la vita della natura che ci circonda le preoccupazioni gli scopi delle persone che stanno accanto e via via tempo e più in alto andando a rappresentarsi l'universo il cosmo la terra e così via si vede sostanzialmente che i nostri problemi che ci sembrano molto grandi in realtà sono semplicemente degli attivi dei distanti di un tessuto spazio temporale che ha veramente un valore infinitesimale questo c'è questo distanziamento che prefigurando con mille mille cinquecento 1600 anni di anticipo marco aurelio fa dell'appunto dell'immaginazione riesce a come dire a scardinare le nostre credenze di riguardo o a comunque indebolire le nostre credenze riguardo all'importanza degli scopi che il minuto prima o l'istante prima pensavamo così importanti quindi marco aurelio lo descrive molto bene quindi tu alzandoti rispetto al livello della consuetudine cingi un terreno sconfinato abbracci con la tua mente l'universo sfrutti l'infinità del tempo e vedi la veloce trasformazione delle cose parziali quante e breve il tempo della nascita della distruzione in mente al contrario l'età precedente la nascita è così quella che si è guidata e quindi questa maniera ti rendi conto che è immesso nella nella struttura spazio temporale del cosmo della tua realtà anche della realtà che ti circonda il problema che ti sembrava insolubile così grave così importante assume un'altra caratteristica un altro esercizio adesso cerco di andare piuttosto veloce un altro esercizio che lui immagine propone ai suoi adepti comunque agli agli altri storici e l'esercizio della scomposizione analitica diciamo che questo esercizio che diciamo ha un corrispettivo come adesso dimostrerò anche nel buddismo consiste nello nello scomporre l'evento o l'oggetto nelle sue parti fisiche spaziali o temporali il che senso ha questo esercizio spesso ritengo che il mio scopo sia vulnerato perché ho un'errata valutazione dell'importanza e delle caratteristiche fisiche dello scopo che per me il minuto prima erano così importanti perché perché il valore che io attribuisco all'oggetto che è lo stato di realtà del mio scopo può essere tutto di un giudizio non oggettivo sulla sua realtà ontica su come lo scopo è fatto su come lo stato di realtà è fatto un giudizio che non regge appunto uno sguardo più vicino e concreto selezionando l'oggetto si scopre infatti che la bellezza il fascino l'appetibilità della dello stato di realtà che costituiscono il mio scopo dipendono non dalla sua effettiva realtà fisica ma dalla maniera in cui la rappresentazione soggettiva della della diciamo della della cosa in questione assembla le parti dando a quella a quella rappresentazione della realtà un valore convenzionale che fa sullo perché non è riconducibile a nessuno di esso questi sono tutti i paroloni per dire cosa che molto spesso gli scopi e gli stati di realtà che noi prefiguriamo come scopi ci sembrano belli ci sembrano importanti ma se noi diamo uno sguardo diciamo più realistico all'insieme delle parti alle cose che compongono lo stato di realtà che abbiamo individuato come scopo ci accorgiamo che poi tutta questa importanza tutta questa bellezza in realtà non c'è per esempio se diamo una straordinaria importanza al lusso ai vestiti al corpo umano e così via beh se diamo uno sguardo disincantato a tutte queste cose ci accorgiamo e qui cito le parole un poco diciamo forti di Marco Aurelio ci accorgiamo che il corpo umano non è altro che il putretudio della materia quindi acqua polvere ossa tetore il marmo è la concrezione della terra lui si riferisce al marmo a loro loro l'argento perché sono le cose evidentemente che andavano per la maggiore nel suo tempo e lo vanno tuttora e qui vi voglio far notare che Marco Aurelio introduce un concetto che è molto importante che ricorda qualcosa che la teoria psicologica ha ben descritto nel novecento cioè lui tende a far diciamo acquisire un disvalore a scopi che potrebbero essere considerati falsamente importanti se non visti in quest'ottica di realtà attraverso l'associazione diciamo di questi scopi di questi stati della realtà con feeling somatici e quindi in questo sostanzialmente in particolare feeling somatici di disgusto questo a noi cognitivisti ci dice qualcosa perché sostanzialmente molto simile a quello che fa che ci dice damasio riguardo ai marcatori somatici cioè ogni volta che noi facciamo una scelta abbiamo dei marcatori somatici che ci indirizzano su questa scelta e che influenzano la nostra scelta allora se uno stato di realtà che caratterizza uno scopo è caratterizzato da feeling somatici di disgusto di disprezzo e così via avremo molte meno possibilità di perseguire quello scopo perché ci sembrerà molto meno intrigante e molto meno importante come vedete si tratta dell'anticipazione di un meccanismo psicologico che è stato ben espresso solo nel novecento anche in questo è importante studiare anche per questo è importante studiare questi filosofi elio perdonami mancherebbero cinque minuti vado velocissimo ho già ho finito grazie vi volevo allora questa è la ho chiesto a un grande filosofo attuale cosa ne pensa dello stoicismo e questa diciamo è la tua è la sua risposta questa cosa adesso non mi voglio dilungare appunto solo cinque minuti questa cosa c'è succede per l'accettazione buddhista l'accettazione buddhista anche in questo caso si basa sulla considerazione sull'esatta cognizione della realtà non vi sto a ripetere delle cose che probabilmente conoscete tutti il buddismo considera in realtà fortemente insoddisfacente perché lo ritiene ritiene la realtà dotata di tre caratteristiche dolorose che sono l'inpermanenza cioè nulla permane tutto è fortemente cangiante nella temporalità l'assenza di sostanzialità e la dolorosità che sono appunto immanenti alle precedenti due condizioni cioè la terza caratteristica la dolorosità del reale e connessa proprio all'impermanenza e la insostanzialità diciamo che dipende dal fatto che le cose non possono offrire proprio per la loro temporalità estrema non possono offrire un nutrimento stabile alla soddisfazione del desiderio umano e quindi questa incapacità di offrire soddisfazione al desiderio umano è la causa diretta della sofferenza e per questo che si dice nel buddismo la causa della sofferenza e il desiderio verso le cose adesso le cose reali verso le cose che appartengono alla realtà proprio perché intrinsicamente impermanenti e insostanziali e quindi causa di sofferenza non vi sto annoiare con di con le quattro nobili verità che probabilmente possono essere ricondotte effettivamente alla buddha storico con le quattro nobili verità sostanzialmente buddha ci dice le stesse cose che ci diceva che ci dice che ci dice marco relli e lo storico se guardiamo la realtà la realtà è profondamente insoddisfacente la propone la realtà è profondamente insoddisfacente perché se noi comprendiamo il funzionamento della realtà vediamo che la realtà è insostanziale e atemporale e per queste due caratteristiche profondamente dolorosa quindi dobbiamo rivendicare ristrutturare completamente il nostro sistema di scopi perché a qualsiasi cosa ci attacchiamo come desiderio che faccia parte della realtà questo ci porterà sicuramente dolore perché qualsiasi cosa diciamo sarà destinata a trapassare a cambiare e quindi ad essere compromessa quindi come vedete esattamente come nello storicismo anche nel buddismo è la comprensione della realtà che designa e configura la designazione degli scopi individuali in particolare dalle caratteristiche della realtà dalla comprensione della caratteristica della realtà si capisce che tutti gli scopi umani ordinari sono assolutamente da abbandonare ed è per questo quindi che la cessazione del dolore coincide con la cessazione del desiderio verso questi scopi ordinari diciamo qual è il percorso che buddha ci dà per individuare prima di tutto buddha ci dice accanto a questi scopi ordinari c'è però un vero scopo del momento in cui un vero scopo che è collegato col dharma cioè con la legge con la legge della realtà e che invece è invulnerabile alla compromissione alla minaccia questo scopo è quello che avete sentito nominare tutti ed è il nirvana il nirvana è quella condizione in cui l'assenza di desiderio fa entrare la detto buddhista in una condizione ontologica ontica di assenza di morte di assenza di temporalità e quindi mi fa fare esperienza di uno scopo che connesso con la legge della realtà quindi con quello che abbiamo detto prima ma che mi fa intravedere una via di uscita dalla sofferenza e quindi mi fa intravedere una realtà che non è soggetta alla temporalità e che quindi ha dignità di essere scelta come scopo fondamentale adesso vi volevo fare vedere una serie di esercizi e chiudo una serie di esercizi buddhisti che sono molto simili agli esercizi stoici una prima un primo esercizio è esattamente quasi uguale a quasi esattamente uguale a quello che abbiamo visto negli stoici c'è la partizione analitica spaziale e il monaco sta attento al proprio corpo vede che il proprio corpo è costituito sebbene di tembri bello intrigante così via è costituito da che da capelli da peli da unghie da denti da carne da nervi e così diciamo da diatrama mi da posto lui dici da tutti anche perché la cultura induista in generale ha una particolare propensione per gli elenchi e quindi questo ci fa capire che per esempio il corpo il stesso quello che consideriamo veramente uno dei nostri scopi cardinali se guardiamo con questo esercizio di partizione analitica in realtà non ha nulla di attraente poi c'è un esercizio che è l'ultimo di che vi voglio dire che invece tratta della partizione analitica temporale che cos'è la partizione analitica temporale questo è un esercizio che vi voglio che approfitto degli ultimi due minuti per spiegarvi bene perché è un esercizio che assomiglia ma non è coincidente con quello con gli esercizi di mindfulness occidentali questa pratica diciamo vuole sviluppare due pratiche insieme due due facoltà insieme una pratica di samadhi c'è una pratica di concentrazione acquetante è una pratica di visione profonda messe insieme l'applicazione all'esperienza di queste due pratiche rende l'adepto buddista consapevole della natura inconsistente transitoria e priva di valore delle cose in che cosa consiste il praticante realizza inizialmente tramite una concentrazione un'assoluta stabilità mentale e poi passa ad applicare questa stabilità all'analisi della realtà cioè all'analisi della percezione sensoriale del flusso degli eventi qual è l'effetto di questa cosa quando la propria mente si placca e si raccoglie in questo modo libera da rifetti malleabile maneggevole comprende l'adepto questo il mio corpo materiale questi sono i quattro elementi fondamentali questo mio corpo ha avuto origine da una madre da un padre è cresciuto cibandosi di cibo è impermanente questo è l'elemento fondamentale soggetto a usura e ulti a disintegrazione e disfessione questa è la mia coscienza supportata da esso e collegata da esso cioè in sostanza cosa si fa con questi due esercizi si fa quello che vi dicevo prima si applica questo esercizio all'analisi della realtà e applicandolo bene si vede che la realtà è molto diversa da quella che ci aspettiamo in effetti succede una cosa intrigante diciamo terribile al tempo stesso quando qualcuno vi dice che applicare bene la mindfulness significa applicare un'attività fare un'attività calmante non fidatevi probabilmente non ha capito bene che cos'è la mindfulness perché il vero esito di queste pratiche buddhiste non è la calma mentale non è una situazione di pace ma al contrario quello che ci dice estene che è un professore un ordinario di psichiatria esperto in pratiche buddhiste all'università di washington che ci dice questo proprio perché la meditazione buddhista serve a comprendere la realtà nella meditazione buddhista arriva un momento in cui la mente è capace di tollerare uno sguardo diritto alla realtà invece di operare sotto l'influenza dell'ignoranza scambiando per verità l'immagine dello specchio quindi i nostri scopi ordinari la mente è in grado di venire al di là del riflesso dello specchio nel substrato di sorcere e svanire quello che una volta sembrava così solido comportante desiderabile ora appare come nient'altro che un problema dovunque un meditante si giri scopre solo di soluzione da morte ovunque chiudo gli esercizi con questa con questa idea con questa considerazione che vi lascio questi esercizi buddhisti che sono stati presi dalla tradizione occidentale in realtà non hanno nessun effetto calmante e non servono per calmare la mente servono per introdurre la detto chiunque di pratica alla dimensione dell'accettazione tramite la comprensione della realtà naturale attraverso questi esercizi io mi rendo conto che la realtà è molto diversa da quella che immagino e di conseguenza tramite la comprensione che in questo esercizio è corporea adesso non ho il tempo di farvi vedere in che cosa consiste effettivamente ma attraverso la comprensione corporea quindi con feeling somatici della temporalità della realtà io cambio il mio sistema di scopi semplicemente perché mi rendo conto che tutti i miei scopi ordinari non vale la pena di non hanno in realtà nessun valore perché sono immessi in una condizione di estrema frammentarietà ed estrema temporalità e che quindi non hanno in pratica nessun valore né o le condizioni materiali per poterli perseguire cioè per poter investire su di essi perché comunque la legge della natura fa sì che io non possa non sia sicuro di poter ottenere appunto questi scopi tra virgolette ordinari Maurizio io avrei anche tante altre cose da fare ma siccome credo che i cinque minuti da dirvi siccome credo che i cinque minuti siano esauriti magari se ci sono poi domande alla fine posso entrare più nello specifico di questi esercizi quindi io ti lascerei la parola a questo punto sicuramente ci saranno domande e avrai modo di dire anche perché ascoltando te mi è venuto il rammarico che quando stavo al liceo marco aurelio lo saltai a piedi pari malissimo me ne rendo perfettamente con avrei anticipato molto grazie per la tua presentazione e poi ed ora passiamo al secondo intervento del professor cristiano castelfranchi come presentare il professor castelfranchi è un eminente scienziato cognitivo io dico così è è poco ma spero che questa breve definizione vi dia la possibilità di rendersi conto di chi è che è stato e chi è ancora spercola per tantissimo tempo il professor castelfranchi già direttore dell'istituto di scienze e tecnologie della commissione del cnr collabora da anni con nostra grande soddisfazione con la spc e le strutture a noi collegate mi ho chiesto il permesso di poter dire una una mia esperienza personale con lui quando l'ho conosciuto e ho avuto modo poi di di frequentarlo è e me ne darete atto alla fine del suo intervento lui rende fruibile concetti complessi e rende anche a me clinico digeribile metabolizzabile ciò che normalmente leggendo ricerche sperimentali e così via mi risultano molto ostiche e allora non voglio perdere ulteriore tempo e lascio la parola al professor cristiano castelfranchi sul farsene una ragione e ce ne facciamo tutti grazie grazie per la presentazione mi pare che ci siamo bene allora rapidissima premessa non riesco a fare una trattazione sistematica unitaria che richiedebbe molto lavoro e tempo ma anche perché in fondo non ci ho mai lavorato completamente ma soltanto spunti claim assunti tesi per una teoria dell'accettazione focalizzata su questo concetto di base di partenza che vedremo farsene una ragione l'altra piccola cosa di cui mi devo scusare non è soltanto questa non trattazione sistematica ma il fatto che qualche piccola parte del del talk a strano inglese perché sono testi presi dal libro di con maria misceli che abbiamo perso per alcuni mesi grande dolore quindi era un omaggio necessario e non ho avuto tempo o voglio di tradurre quei piccoli passi spero non sia un problema allora diversi spunti diversi temi per esempio l'idea che ci sono diversi tipi e livelli del concetto di accettazione e del fenomeno dell'accettazione del farsi una ragione darsi ragione io mi focalizzerò tanto per cominciare con accettazione che chiamerò cognitiva c'è la necessità di spiegarsi di capire come presupposte base poi delle accettazioni emozionali o normative addirittura dei conti normative un altro punto è cosa rende un contenuto inaccettabile sono molto superficiale rapido su questo un punto a cui dedicherò più attenzione l'importanza delle aspettative come parametro fondamentale di valutazione di quello che è successo e che genera la reazione l'idea che ci sono strategie diverse tipi di accettazioni emotivi valutativi non so anche se chiamarli dinamiche motivazioni diverse rassegnarsi accontentarsi consolarsi giustificarsi perdonarsi trovare giusti eccetera 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 che vanno modellate separatamente mannando dei componenti comuni dedicherò un po di attenzione a l'acceptance come un'attitudine positiva un vissuto positivo che il concetto che interessa in ambito clinico in molti casi eh prendendolo dal punto da un lavoro con maria soste poi dedicherò una certa attenzione a questa tematica di grande rilevanza che avete messo al centro di questo incontro il nostro bisogno di un mondo di un destino giusto degno e questo può creare un problema serio nei problemi di accettazione e poi domanderò qualche cosa se non ci sono aspetti problematici nel processo di accettazione se è sempre necessariamente un aspetto un processo positivo allora cominciamo dal primo claim dal prima tesi ci sono diversi tipi e livelli di accettazione ma sono in interazione tra loro e in supporto tra loro non c'è un concetto unitario di farsi darsi una ragione capire accettare no c'è un concetto non unitario una parola non sia un concetto ambiguo con più significati però sono tra loro connessi queste varie forme si fondano una sull'altra a cominciare da quello per me di base che è l'accettazione di credenze credere che accettare di credere che del fatto dell'evento della situazione chiamerò questa accettazione cognitiva epistemica che consiste nel capire come perché è successo e quindi spiegare spiegarlo trovare le ragioni per esempio come facciamo a spiegare e capire la condotta di una persona dobbiamo trovare le ragioni di questa condotta che vuol dire le ragioni della condotta teoria ormai lettura della mente quali scopi quale credenza che spiegano e giustificano mi capisco e capisco perché si comporta così come si comporta cosa cosa lo determina e questa ragione l'accettazione epistemica cognitiva questo capire venire a credere in quanto lo capisco perché per capire credere una cosa bisogna che ne trovo una qualche giustificazione è a mio modo di vedere il presupposto della base di accettazioni poi di livello successivo dell'emozione suscitata della sofferenza o deontiche cioè normative cioè trovare una qualche rispondenza a qualche giusto a qualche prevedibile a qualche normale allora questa accettazione epistemica questo spiegarsi e capire riguarda non solo le credenze in sé per accettare una credenza devo riuscire adesso lo dirò a supportarla che va con avere le ragioni di quel fatto di quell'evento ma può riguardare anche l'accettazione cognitiva degli scopi devo capire che perché ho quello scopo come mai ho quello scopo come significa quello scopo accetta il possesso problema c'è per i desideri le emozioni pensieri per accettare quello stato mentale quello stato psichico devo spiegarmelo devo spiegarmelo quindi è un processo metacognitivo e poi anche affettivo ovviamente per le emozioni comportate quindi meta affettivo una meta emozione che si applica a tutti i contenuti psichici le credenze gli scopi i pensieri le emozioni i desideri devo prima di tutto capirle spiegarmelo darsi una ragione accettazione rappresenta fenomeni diversi quello che ho detto è quello di base ma per esempio una cosa molto diversa è darsi una ragione accettare nel senso di giustificare trovare il giusto questo è un altro processo successivo più complesso c'è l'idea che doveva succedere ma doveva succedere non a caso a due sensi diversi uno significa non poteva non succedere non c'era niente da fare che potevi fare che potevo fare non c'era niente da fare non poteva non succedere un certo non c'era alternativa ma l'altro ha un significato deontico normativo non poteva non succedere doveva succedere nel senso che era giusto che succedesse era conforme a una norma a un principio etico a un valore e se questo è violato se non è giusto non corrisponde alla norma viola il valore accettare è più difficile come sappiamo bene perché crea ribellione indignazione senso di ingiustizia a cui dedicheremo come ho detto una sezione di questa in questa piccola presentazione l'idea è che il primo livello che abbiamo menzionato l'epistema che adesso approfondiremo è il presupposto di base delle accettazioni successive dell'emozione che mi crea e dell'accettazione dell'emozione o della mazzina dell'accettazione come giusto anche di onticamente accettabile allora dedichiamo qualche spazio a questo processo di base dell'accettazione epistemica cognitiva accettare di credere non rigettare che c'è quel fatto e questo è possibile grazie al capire cioè a sapere come perché è successo a spiegarselo e noi uomini abbiamo bisogno non solo di capire ma di spiegare abbiamo bisogno di ciò come ci ha spiegato Aristotele non solo abbiamo bisogno gli umani di sapere che ma abbiamo bisogno di sapere perché cioè di spiegare e non solo di capire di sapere di capire ma non solo di sapere che consiste questo noi abbiamo bisogno di integrare le informazioni le conoscenze non solo in modo conoscenze dissonanze contraddittorie non principio di incompatibilità non contraddittoria no ma di più si devono supportare l'una con l'altra giustificare questo dunque questo questo già che questo questo infatti questo abbiamo bisogno di questa rete di integrazione di supporto tra le varie credenze per renderle credibile per venirle a credere o per accettarle non può essere non solo non contraddittoria ma addirittura contrastante e inspiegabile facendomi saltare le altre cose che credevo e quindi il credere ha delle sue barriere c'è la possibilità di non credere non è che noi accettiamo qualsiasi informazione anche di fonti credibili no 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 ci sono un esame di plausibilità di accettabilità potrei rifiutare di credere non credere e ci sono quindi delle mosse delle manovre per farmi credere o per farti credere argomentazione persuasione devo trovare argomenti che sono gli argomenti sono i supporti al credere sono altri fatti altre credenze che giustificano mantengono e inducono a credere quell'altra cosa per il processo di spiegazione di inferenza e quindi per farti credere, per indurre te credere devi trovare supporti, argomenti, evidenze da cui supporti e reggi la credenza che voglio portare oppure viceversa per non farti credere, per demolire la credenza per respingere devi trovare contro argomenti cioè evidenze che vanno in contraddizione e sono più forti di essa questo cercare di integrare di supportare, di giustificare è questo che poi sorregge quella credenza la sorregge, la sostiene non solo vengo a credere in quanto, in quanto, in quanto ma la mantiene nella mente e mi impedisce di cambiarla facilmente come mi pare non posso cambiare una credenza come mi pare perché allora, 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 allora quindi ci sono questa struttura di meccanismi che sorreggono le credenze e le integro deve essere rispettata non posso cambiarla a piacere e questo blocca persino i meccanismi inconsci di difesa la negazione buttare via una credenza, rifiutarla devi fare i conti con questa legge della mente con questa integrazione non puoi eliminarla così a piacere eccetera devi sistemare il punto con gli altri e per questo la negazione può fallire perché ci possono essere vincoli che non riesci a gestire che supportano, supportano quella credenza e non ci sono evidenze opposte in altri termini la mente ha le sue leggi di integrazione della cognizione da rispettare per fare varie operazioni di credenza per accettare il doloroso l'indesiderato devo fare operazioni di integrazione delle conoscenze, delle credenze di quello che posso credere rifiutare, non più grave fonti, eccetera ma lo stesso per rigettare o per negare quindi per rifiutare una certa conoscenza devo trovare i supporti e le spiegazioni le giustificazioni, gli argomenti non posso negare per esempio quello che mi pare devo trovare come dicevo come negarlo due modi demolendo le evidenze i supporti che mi portano a quella conclusione che sostengono quella credenza che è inaccettabile dovrei demolirli, smontarli non posso demolire quella credenza se non demolisco i suoi supporti i suoi pilastri oppure trovare supporti evidenze, argomenti a favore della credenza opposta che deve vincere che voglio che vinca perché voglio credere in modo da non credere quello che non voglio credere esempio l'esempio che facciamo nel libro con Maria Miceli sulle difese della mente quando la negazione fallisce facciamo l'esempio che non posso accettare l'idea che sono ok allora devo spiegarmi in altri modi il fatto che mi piace guardare gli uomini il fatto che devo trovare altre evidenze eccetera eccetera quindi devo sistemare i pezzi non posso attaccare quella singola credenza in quanto tale solo perché mi dà fastidio e non la posso accettare questo è il significato di base di accettazione quella cognitiva epistemica di farsi una ragione cioè capire spiegarsi e questo è un processo interpretativo del fatto come sappiamo il punto fondamentale dei cognitivisti è che il fatto non conta in quanto calma conta la mia interpretazione del fatto è il significato che riesco a attribuire al fatto e questa interpretazione determina poi la mia reazione al fatto e quindi processo di metà livello superiore del farsi in una ragione come accettazione in senso lato con varie forme rassegnare rinunciarsi accontentarsi eccetera oppure viceversa rilanciare progettare come vedremo in senso accettazione in senso positivo per non accettare una cosa inaccettabile insopportabile per esempio per le emozioni o per il autore che mi suscita o per le valutazioni che mi comporta la prima mossa sarebbe quindi banale rigettarla a questo livello non crederla negarla oppure interpretarla differentemente cioè cambiare le credenze di supporto e integrazione di questa credenza di questo fatto per esempio l'attribuzione causale cambio l'attribuzione causale passo all'attribuzione causale esterna o interna sulla base di questa interpretazione dell'evento del fatto e delle conseguenze vissuto che mi attiva per esempio attribuzione esterna rabbia diversa attribuzione interna colpa parte l'operazione di meto livello di valutazione di essa di emozioni suscitate eccetera eccetera come dicevamo le credenze si possono rifiutare non crederle ma bisogna rispettare le regole della loro integrazione del supporto le regole della credibilità anche delle fonti perché una delle fonti delle ragioni per credere o non credere il convincimento che vinca una credenza piuttosto che un'altra è le fonti da cui mi deriva questa cosa e quanto è credibile quella fonte la fiducia è una fonte e il fatto che se non credo sto discreditando la fonte se non credere è una fonte significa discreditata abbassare la fiducia la credibilità la tendibilità posso farlo? ci sono fonti che non posso discreditare che non posso attaccare che non posso mettere in dubbio e quindi la forza della fonte vince su altre ragioni magari devo abbandonare molte cose che credevo perché questa fonte indiscutibile mi dice che ma questo ci ricorda una cosa importante che credere non è una vera decisione non è una vera decisione del sistema 2 deliberativo non è una deliberazione cioè non la posso basare su criteri di convenienza è utile mi conviene è razionale crederlo come ci ha spiegato Pascal non è una decisione economica basata sulla convenienza e sulla razionalità no non è che decido di credere vengo a credere come risultato finale di un processo di information processing complesso che mi induce alla fine mi porta a credere o a non credere non è una vera decisione o di liberazione e infatti dato che non posso decidere di credere perché vorrei credere voglio credere decido di credere sappiamo che esiste un vecchio trucco per riuscire ad arrivare a credere per abituazione come la chiama Pascal ed è questo il famoso as if agisci comportati come se credessi come se credessi come credessi e verrai a credere Pascal ma anche un principio ben noto in ambito di psicoterapia quindi comportamentale da sempre mi è stato spiegato io lo chiamo apprendimento convincimento per rinforzo pragmatico pragmatico cioè il fatto che io baso quella mia azione quella mia condotta su quella assunzione su quella credenza che presuppongo che presumo quindi il presupposto del mio agire così se l'azione non importa automaticamente c'è un feedback di conferma di conferma di conferma inconscio quel presupposto dell'agire così funziona l'azione conferma 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 e vengo a convincermi per abituazione apprendimento per convincimento pragmatico dell'efficacia del comportamento su cui l'assunzione è basata non è che decido di credere devo agire come se credessi nel caso questo è un altro trucco saltiamo un attimo queste due slide scusate allora accettazione cognitiva epistemica come dicevamo vale anche per gli scopi anche gli scopi si possono rifiutare rigettare sia scopi esogeni che mi vengono dagli altri sia scopi endogeni che mi vengono da me per esempio con un'espressione no non è da me non è da me questo scopo non sarebbe da me no non lo rifiuto anche in questo caso capire il perché mi viene quello scopo dovrei avere quello scopo è una necessità e importante perché la necessità di quello scopo porta ad accettarlo sia scopi adottati dagli altri sia scopi adottati da me stesso ad esempio eh no devo devo farlo non ho alternativa non posso non farlo oppure no mi fido di lui non mi fido di me no posso fidarmi oppure addirittura è giusto è giusto non sono alternativa è giusto e corrisponde alla norma ai valori eccetera quindi posso dover spiegarmi la natura di quello scopo e la ragione di quello scopo per venire a accettarlo e non rifiutare perché potrei anche rifiutarlo e potrei venire a accettare uno scopo che prima rifiutavo sia che mi veniva da me sia che mi veniva da altri mi ha richiesto imperativo eccetera anche in questo caso forse su questo voi potete istruirmi sapete più di me potrebbe valere la siffa come esiste agisci come se credessi come se credessi come se credessi come se credessi forse esiste anche penso che questo sappiate ben meglio di me agisci come se volessi come se volessi come volessi e vorrai a volere vorrai avere questo scopo ma in generale sono tutti i processi di quanto sia importante l'immaginazione la simulazione il vivere come se nell'immaginario o la narrazione a se stessi il dialogo interno l'autoconvincimento l'argomentazione a se stessi come forme di apprendimento di scopo e di credenzio come forme di cambiamento degli stati di base della mente e quindi poi della loro elaborazione e risposte emotive eccetera cosa ben diversa da questa accettazione epistemica che ho chiamato è l'accettazione valutativa e qui o anche poi emozionale o deontica normativa valutativa vuol dire che io devo sto valutando quell'evento non sto soltanto analizzando lo sto valutando e per esempio su quell'evento potrei tollerarlo come vedremo e persino vederci del buono dell'utile e giusto ma queste valutazioni successive che adesso approfonderò un pochino restano basate sul primo livello prima di tutto devi riuscire a capire come è successo e perché e semmai poi accettarlo in senso lato in tutte le forme che abbiamo detto giustificarsi nel segnarsi e accontentarsi tutte modalità diverse che vanno modellate diversamente l'accettazione valutativa emozionale consiste nel fatto che non solo devo dare senso alla cosa cioè trovare spiegazione ma devo dare valore valutare valutare come lo valuto buono cattivo e che conseguenze ha valutazione su di me e queste due valutazioni possono essere o di tipo emozionale reazioni del sistema 1 marcatori somatici evocazioni cose che sento disgusto fastidio timore allontanamento oppure giudizi di valore giudizi di valore no questa è una cosa ignobbile ma questa è una cosa brutta ma questa è una cosa non è da me cioè una valutazione negativa di quel pensiero di quell'azione di quell'evento di quel fatto e poi quindi conseguentemente possono essere valutazioni negative su di me ma questi livelli di valutazione successivo quello valutativo che poi dà luogo anche aspetti emozionali sono connessi ancora una volta una supporta l'altra la prima quella di capire spiegare trovare gli scorti argomenti supporta l'altra supporta quella valutativa perché dipende dall'interpretazione che ne ho dato e dall'ispiegazione che ne ho dato la conseguenza valutativa ma viceversa l'altra quella valutativa o quella emozionale che è l'emozionale o il dolore cerca di orientare e di influire sulla prima contro loro interagenti per esempio nel motivated reasoning on affect as information quindi è sbagliata la visione del dual system dual processing che sono due sistemi paralleli competitivi in cui uno bocca l'altro no no questo è un aspetto limitato della visione non sono semplicemente due sistemi paralleli concorrenti ma sono interferenti l'uno con l'altro gli aspetti del sistema uno intuitivi intuati intuati inconsci impulsivi cioè interferiscono sulla parte ragionata e deliberativa e della mia decisione anche deliberata e ragionata del credo nel credere del scegliere nell'interpretazione che do e quindi nell'emozione che poi potrei usare una breve osservazione su cosa rende un contenuto inaccettabile e quindi addirittura insopportabile banalmente inaccettabile in generale vuol dire frustrante cioè la frustrazione di uno scopo di tipo diverso in natura persino anche di un metascopo di uno pseudoscopo per esempio della consonanza cognitiva la difesa di quello che io credo di quello che ho costruito della struttura di quello che ho capito di quello che so resisto a cambiarlo perché dovrei demolire anche la mia visione di essere un buon conoscitore un buon ragionamento avrei avuto un fallimento come conoscitore come un fallimento cognitivo quindi abbiamo una resistenza di base a difendere difendere tutta la struttura di integrazione delle conoscenze che abbiamo costruito sul mondo su quel fatto su quell'ambiente su quell'evento su di noi eccetera eccetera primo elemento dell'esistenza non posso demolire facilmente come se non costasse niente tutto quello che mi sono integratamente costruito per capire per spiegare il mondo gli eventi me stesso la situazione nella realtà ho bisogno di questa integrazione delle mie conoscenze e c'è uno scopo che difende questo uno scopo di difesa della coerenza cognitiva che io ho costruito e quindi già questo può rappresentare un motivo di respingimento di inaccettabilità di un certo contenuto anche di un'emozione anche di un pensiero anche di un fatto ma resisto perché allora allora non ho capito niente allora allora non ho capito niente devo ripetere tutto un altro elemento ovviamente che rende la cosa inaccettabile come dicevamo è la valutazione negativa che consegue da quel fatto così interpretato una valutazione negativa di per sé è fastidiosa non è buona specialmente se poi è una valutazione negativa che si ripercuote su di me non solo sul contenuto ma magari su di me e quindi questo qui è già un elemento assoluto di resistenza perché io ho un scopo una motivazione intrinseca consapevole o inconsapevole avere una buona visione di me una buona visione una stima un apprezzamento di me e non valutazioni negative fa parte fondamentale del self dell'immagine del bisogno della motivazione intrinseca e quindi di uno scopo di questa natura ma ancor più se questo poi dà luogo ovviamente a conseguenze mete emozioni negative spiacevoli sofferenti su di sé questo porta all'insostenibilità per ragioni di sofferenza inaccettabile insopportabile nel senso che è troppo doloroso mi suscita sofferenza o la quella frustrazione in sé quel fallimento in sé e sofferenza perché lo scopo è importante quindi sofferenza oppure perché quella emozione è una emozione spiacevole sgradevole insopportabile dolorosa quindi negativa di solito perché è basata ad un giudizio negativo per esempio una cosa è troppo vergognosa porta autodisprezzo disgusto autobiasimo senso di colpa risentimento devo pagare autoblusticazione e qui per esempio c'è appunto da questo elemento interiore la mossa e la liberazione del perdonarsi che è una forma di accettazione del perdonarsi mi libera da questa persecuzione interiore molto sofferente dell'autobiasimo dell'autopunizione dell'autorimprovere ma come ho fatto questa persecuzione interiore col perdonarsi viene accantonata scassata e questo mi rende più accettabile più gestibile la cosa più le sofferenze è forte più evidentemente di vario livello frustrazione dello scopo o emozione insopportabile dolorosa più è inaccettabile e quindi una delle mosse caratteristiche che voi conoscete meglio di me per ridurre la sofferenza è la manovra la strategia cruciale per accettare ridurre la sofferenza ridurre quella sofferenza e quindi la cosa è più accettabile questo consiste nel guardare il bicchiere mezzo pieno la parte positiva raggiunta nel contentarsi o addirittura nel riuscire come adesso vedremo nel trovare il bello e il buono nel male nella frustrazione che è successa ma questo è il punto invece cui vorrei dedicare un po' più di attenzione perché secondo me è sottovalutato in alcuni aspetti della psicologia contemporanea le aspettative come parametro di riferimento fondamentale e cruciale un aspetto importante per la teoria dell'accettazione è sottolineare il fatto che noi non valutiamo i nostri fallimenti delle frustrazioni e raggiungimenti solo rispetto allo statu quo come nella teoria della prospettiva giusto Nobel cioè come perdere e guadagni rispetto a come mi trovavo quella loro importante è la simetria psicologica no noi non valutiamo rispetto allo statu quo sto andando avanti ma rispetto alle aspettative questo parametro fondamentale essenziale dell'appraisal è fondamentale quindi per l'accettazione e per il fronteggiamento di quello che è successo è un parametro valutativo le aspettative così decisivo che addirittura per valutare noi ci andiamo a costruire post hoc ed ad hoc le possibili aspettative che potevamo avere non valutiamo solo le aspettative che di fatto avevamo effetti prima no ma quelle che avremmo potuto avere che avremmo dovuto avere cosa mi sarebbe dovuto aspettare cosa mi potevo aspettare e ci costruiamo quindi post hoc e ad hoc possibili delusioni sollievi gioie basate semplicemente su questa visione ipotetica e controfattuale dato che valutiamo rispetto non allo statu quo ma all'aspettative possiamo addirittura vivere come perdita quello che è semplicemente un mancato guadagno un mancato raggiungimento di fatto specialmente se quel raggiungimento lo vivevo come certo intrattenuto nel tempo ormai vicino già raggiunto già nelle mie mani garantito era già mio e quindi è perso lo vivo come perso quando in realtà è non raggiunto e ci possiamo persino sentire ingannati traditi dal mondo che ci ha lasciato credere fino all'ultimo che ormai era nostro e viviamo persino come non giusto questo inganno ricevuto questo tradimento che abbiamo avuto dal mondo che ci ha lasciato credere che avevamo raggiunto già quella cosa e su questo dirò qualcosa nella sezione sul senso del justice il rapporto al parametro aspettativa dà luogo a manovre e strategie diverse per gestire gli eventi per esempio anche le vincite vincite ma inferiori ai guadagni attesi perdite ma inferiori al danno previsto vediamo queste manovre supponiamo che abbia ricevuto tutto questo bel guadagno questo bel più il trattino nero dallo zero dello stato qu' sono arrivato a x1 tutto questo più ma mi aspettavo di arrivare a x2 c'è tutto quel non raggiunto quel non guadagnato vi è un pensa positivo in queste circostanze che si consola subito focalizzandosi sul bicchiere mezzo pieno sul nero sul guadagno raggiunto e si accontenta si contenta di quello anche se non ha raggiunto tutto quel tratto bianco tutto sommato è andata piuttosto bene mi aspettavo di più però niente male niente male ma vi è un pessimista che non riesce a focalizzarsi sulla parte nera raggiunta e accontentarsi si focalizza sul non raggiunto porca miseria mi è andata male ma che bene bene mi aspettavo molto di più non riesce a soddisfare a compensare il non raggiunto con la parte raggiunta supponiamo che mi ha preso questa brutta botta dal mio stato quota dallo 0 tutto sotto x1 tutta questa perdita ma mi aspettavo di perdere fino a x2 ti riceve una botta fino a x2 il pensa positivo che si focalizzava prima sul nero adesso si focalizza sul bianco sul non raggiunto sul non raggiunto del danno e con esso si consola poteva andare molto peggio molto pettosomato non è andata così male riduce il male effettivo raggiunto confrontando con il male ipotetico usa il sollievo per il danno non avuto che avrebbe potuto avere come compensazione del danno reale avuto mentre il pessimista non si consola non compensa certo certo potrebbe andare peggio ma intanto guarda che botta guarda per il gol si focalizza questa volta lui sul nero esiste anche un interessante importante chiamarsi contento anticipatorio cioè la proiezione delle aspettative l'uso delle aspettative precedenti o create ad hoc per valutare può essere preventivo volta a funzioni preventive per esempio può esserci un accontentarsi un chiamarsi contento non la posteriore rispetto all'evento al risultato no ma anticipatorio rispetto a quello che posso propormi posso crearmi per esempio delle aspettative volte a proteggermi dalla delusione manovro le aspettative per proteggermi dalle delusioni o forse anche per espormi a delusioni se questo ci torna questa domanda che faccio a voi abbasso le aspettative le mie ambizioni le mie pretese così non rimarrò deluso manovra umana protettiva comprensibile di accontentamento di inconscia manovra spesso inconscia e comprensibile perché mi sto proteggendo proteggendo specie in contesti difficili che spungono a sistematica e a sistematica i fallimenti dei progetti per esempio in ambito chi lavora in ambito dei sistemi di servizi di riabilitazione di reinserimento sociale di ridurazione in servizi psichiatrici territoriali c'è una situazione frequente di fallimento riduzione e abbassiamo le aspettative abbassiamo se fa quello che si può perché mo che tegredi fa se fa quello che si può abbassi le aspettative umanamente così c'è anche una pressione inconscia del gruppo tacita del gruppo in questa direzione ma questa mossa che è autoprotettiva e comprensibile è problematica perché in realtà il vissuto inconscio che stai tradendo te stesso la tua identità la tua identità è caratterizzata dai tuoi valori delle tue ispirazioni dei tuoi progetti su te stesso delle tue competenze e quindi in un certo senso per proteggere le delusioni stai deludendo te stesso quindi è una manovra interessante abbassare le aspettative per proteggere le delusioni ma problematica problematica vuoi accontentarti di ciò che hai che ciò che sei ciò che aspiri a raggiungere o accontentarti del risultato inferiore all'attese è un accontentarsi in tutti i tuoi casi basato su rinunce non posso non posso impotenza non ce la faccio è meglio è più gestibile ma sapete meglio di me se lo vivo queste rinunce come giuste le mie prese di aspirazioni inappropiate o per attribuzione interna non me lo merito non sono adeguato o per esterna non è giusto rispetto agli altri o è contrario ai diritti degli altri eccetera e quindi questa rinuncia è giustificata è giusta è più affrontabile ma la rinuncia come vedremo meglio è una forma di accontentarsi di farsi una ragione problematica può essere come dicevamo anche invalidante autodeludente domanda ma ci potrebbe anche essere chi si dà aspettative esagerate esagerate per in funzione allo scopo di esporsi e confermare delusione di sé fallimento di sé o del mondo mancanza di valore di sé ostilità avversità del mondo che è sempre ostile mi fa a far dire non lo so interessante due parole su acceptance come positive attitude come aspettativa positiva con Maria Miceli a cui dedicato parte di questo lavoro che l'abbiamo persa da pochi mesi con grande dolore abbiamo cercato di evidenzare tempo fa in un articolo due aspetti positivi dell'accettazione questa volta in senso stretto non accettazione in senso lato per coprire tutti i fenomeni rinuncia adattamento al contento accettazione in senso più stretto come accettazione positiva contrastando la rissegnazione scusate se questo pezzettino è in inglese e noi sosteniamo che il nostro fine è to show that there exist two distinct mental attitude che chiameremo acceptance in senso stretto e resignation e both imply the unknowledge of the frustration tutti quanti riconoscono che c'è stato questo fallimento questa frustrazione ma differiscono su importanti rispetti hanno dei componenti comuni la knowledge della frustration è avvenuta questa frustrazione e quindi possibilmente anche la possibile sofferenza del possible distress che questo comporta in caso disappointment the ability to resist to unwarranted identification or disappointment with feeling of injustice se provo senso di ingiustizia è più difficile è più difficile sia questa situazione sia l'assegnazione non mi assegno se riesco a non avere questo feeling di injustice allora queste due manovre sono più possibili un altro componente comune è contentment che comporta implica viewing the frustrating situation as not completely negative either because frustration is required only in part non è completa or because it produces associated with some other goal satisfaction qualcosa è stato raggiunto contentment è la forma of a passive acceptance or the negative result of this ma vi sono differenze cruciali dell'accettazione accepta in senso positivo in senso stretto e rassegnazione nell'acceptance also imply to the mere risk of goal frustration posso accettare il semplice rischio della frustazione lo posso accettare in resignation risk of frustration is not accepted it's automatically translated into frustration so I abandon resignation imply hopeless perdita di speranza non speranza while acceptance does not imply hopeless because it does not necessarily take any assumption of the unmodificability of the situation no qualcosa posso fare qualcosa si può fare altra differenza acceptance is characterized by a special kind of positive thinking positive thinking consists for example reframing or redirecting frustration itself by finding in it some opportunity some possibility to pursue goal by contrast the resignation imply the person fixation on a view of frustration a failure a failure a failure which favor disengagement abandono di tentativi di obiettini any attempt any opposite opportunity is viewed as cannot be obtained so it's frustrating acceptance allow persistent and repeated attempt and in view of other the previous goal as well replanning in view of some other goal in place of answer one by contrast this implies loss of motivation and disengagement disengagement or any pursuit and the fixedness on the failure goal and the lack of flexibility I cannot find any alternative of possible goal except that's implied the goal of every accurate picture of the situation because I want to know how to manage I took hope I can do something I resign the goal of being limited trial is unmodifiable and to give up risky hopes and disengagement for goal pursuit which is frustrating domanda domanda scusate la mia superficialità abbiamo parlato dell'accettazione ne parleremo sia in senso lato tutte le varie forme sia in senso stretto come positive acceptance sempre come una cosa buona anzi necessaria ma non potrebbe anche essere una cosa dannosa e sbagliata per il soggetto o per la società per socialmente non è sempre buono utile sano e razionale accontentarsi rassegnarsi rinunciare sì ma magari mi protegge dalla sofferenza sì però effettivamente se è impossibile o è troppo costoso raggiungerlo di avere non raggiunto il perduto allora perché mi sta a consumare e investire su cose irraggiungibili oppure se faccio azzecca positiva se lo compensi in modo più volente o quasi addirittura meglio accettazione ok qui la manovra è andata bene oppure se è giusto che io non abbia avuto e che abbia fallito non era giusto averlo e quindi va bene mi devo rassegnare accettare quella cosa lì ma altrimenti la rinuncia all'oggetto perso accontentarsi e rassegnarsi in particolar modo o alla reazione che questo mi succederebbe rabbia vendetta eccetera rinuncia a questo lo stop di questo potrebbe essere frutto potrebbe essere frutto di processi limitati cognitivamente bias irrazionalità debolezza di personalità scoraggiamento senso di incompetenza pessimismo conferma di essere un perdente uno sfigato potrebbe andare a confermare queste cose qui e essere sermenteni di questi vissuti problematici e anche comporterebbero non affrontare propri limiti perdite malattie o disturbi che magari potrebbero essere in parte affrontabili superabili e darmi proprio una vita più soddisfiante più sana eccetera eccetera ma ancora più radicalmente addirittura non semplicemente subire una oppressione situazioni ingiuste o discriminante ma farsene una ragione magari rassegnarsi ad essa perché ne trovano ragione e persino magari trovarne in fondo è giusto che sia così per esempio è sempre stato così e quindi accettare persino in senso positivo e compensare quella cosa e proiettarsi su un altro di una situazione ingiusta di un'oppressione di una discriminazione e quindi non ribellarsi non vivere come ingiusto e indegno ciò che era l'infamia non protestare non cambiare la loro condizione e la società come era la situazione degli handicappati per tanto tempo o come è stata quella dei gay o come è la condizione femminile delle donne malpagate colori inferiori picchiate abusate è così positivo farsi una ragione anche per proteggersi dalla sofferenza c'è serie di problemi per l'individuo e per la società e concludo con la normatività e il feeling of injustice in omaggio a maria miceli al libro scritto con lei sulle aspettative scusate anche questa parte in inglese il primo passaggio è da from shoot to out due tipi diversi di deve uno shoot simile a loss and we suggest that the positive expectation about a given goal p favor the establishment of a prevention focus rather than promotion focus avoidance 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 of a loss of a loss of a loss however more than this a positive expectation implies something more than a mere prediction plus a goal in positive expectation the epistemic should typical prediction should because it's predictable it's predicted is translated into a deontic must ought ought to be deontic normative perdonami cristiano abbiamo ancora cinque e non oltre minuti grazie the probabilistic force of prediction produce a sort of normative belief it's no longer viewed as something that should happen because it's normally happen but something prescribed to happen and in this case when I I feel the non-achievament of the goal as a violation a feeling of mistreatment an injustice because it should happen in that way it was it ought to be not just predictable and the stronger the positive expectation the stronger the feeling of unfairness unfairness I did deserve this was not correct and so I search for somebody or something to blame to blame who is the addressee of such a blame who is the addressee of such a norm or such a haught is dependent as a cancer when my objective p my goal involve some agent human for example is this agent who is responsible for this failure who ought to behave as expected if he was violating this duty this haught the more the expectants believe about the goal is dependent on some intentional agent not just causal process consequently this agent I perceive is as responsible of the realization or realization of it and so the norm is more imperative the imperative of the norm on this agent is probably reached when the involved agent has taken the discharge of this he let me believe that I can trust him he let me rely on that implicitly or explicitly he was committed to do what he has to do so I feel betrayed not only there is an unfair violation but I was betrayed by this agent however positive expectation can even happen when there is not an intelligent agent for example this stupid example John may reasonably expect his summer holiday in Egypt will be sunny and dry if he's already are ruined by bad weather John is like to feel a sense of violation and betrayal because there is this normative component in his expectation but who is responsible for this violation no one nobody there is no agent it's the event itself or the supposed causes that prevented the realization of P like weather lack faith or good in sum because of this positive expectation it's all for a taste this gives a sense of losses not acquired and more than that when positive space is invalidated or fall from a vitriol satisfaction it's not only a fatal loss in addition the quality of the suffering is affected and violated because I'm disappointed not only disappointed but this is associated with a sense of injustice the sense of injustice is not just a typical social feeling as usually is considered can a reaction of injustice treatment received by the others the other was not fair toward me in such context the positive expectation of justice is based on grounded social norm or how the other should react with me no it's possible there is a more elementary and just necessarily social sense of injustice as say normativity is not solely concerned people intention commitment but also natural event accident and misfortune that may be independent of any social agent actually in such a case the agent is responsible for this norm violation and injustice toward a mass will be no one except the supposed scars like life luck faith or God life have been justice faith have been just toward me God have been just I stop here scusate la mia incompetenza sui aspetti clinici che ho sfiorato e un grande abbraccio e omaggio a Maria Micheli che è stata la grande autrice di molte di queste teorie grazie 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 cristiano grazie davvero di cuore e credo che tutti le persone convenute converranno con me di quanto per pratare comprende molto più di quello che sa anche se ci dice tutto il contrario va bene così ora siamo arrivati all'intervallo sono le 10 e 50 abbiamo sforato di pochissimo e quindi ringrazio i due relatori che hanno sostenuto il loro intervento noi ci dovremmo vedere alle 11 diciamo alle 11 e 5 inizieremo col terzo intervento signori grazie abbiamo ricevuto varie richieste per l'attestato di partecipazione per le slide e se è registrato l'organizzazione mi sembra che abbia già risposto grazie alle 11 e 5 grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.